Coglievamo l'occasione per ringraziare Andrea Zampieri, Alessandro Scandura, Pietro Seco, Mirko Zorzi, Lisa Murarotto, perché adesso noi tutti lo scarichiamo da soli e poi vi mostriamo dove dobbiamo portare la roba. Grazie, per chi non lo sapesse il palco di Pedavena non è a piano terra, è lì e non so se si vede ma c'è la scala. Adesso faremo tutto questo lavoro in due. A più tardi. Oggi partecipo alla maratona di Pedavena, io ho il numero 18, 118. Racchetta da ping pong, ma non sarà il peso, ma anche le palline, è il peso di quella pasta che ha due palline e una racchetta. Grazie.